Ti va di riprovarci? Farò un altro tentativo. Benissimo! L'endioso! Sento! 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 Arrivile! Sento! 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 Arrivile! D'accord! Sento! Occhia la parchezza! Perfetto! 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 Meno male che non l'ho scommesso! Bene! Ci l'ho messa tutta! Indubbiamente! Gli altri duellanti si erano già accorti di te! Ma dopo quest'ultimo round, vogliono davvero farti fuori tutti! Se speri di vincere il prossimo round, o almeno sopravvivere, continua ad allenarti senza sosta! Ti farò sapere appena saremo pronti! A presto! Il prossimo round è quello decisivo! E l'incarico è completato! Perfetto! 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 Perfetto!